Il consigliere regionale Francesco Cannezzaro, l'ex consigliere ed ex assessore regionale Pasquale Tripodi, il sindaco di Palizzi Walter Scerbo e l'ex sindaco di Motta San Giovanni Paolo Laganà. Sono stati tutti prosciolti i politici che la procura di Reggio Calabria aveva accusato di corruzione elettorale con l'aggravante di aver favorito un'impresa mafiosa nell'ambito dell'operazione denominata Ecosistema. Assolti perché il fatto non sussiste, secondo il giudice per l'udienza preliminare presso il tribunale regino Adriana Trapani. Resta invece da definire con rito ordinario la sorte giudiziaria dell'ex sindaco di Melito Portosalvo Giuseppe Iaria e dell'ex primo cittadino di Bova Marina Vincenzo Crupi. Pene pesanti invece sono state inflitte agli uomini del clan operante nel basso Ioni Origino, nei comuni di Brancaleone, Palizzi e Marina di San Lorenzo. Il gruppo ha condannato infatti Natale Paviglianiti a 10 anni e 7 mesi, Angelo Fortunato Chinni a 10 anni e 8 mesi, Angelo Paviglianiti a 8 anni e 6 mesi, Natale e David Paviglianiti a 4 anni e 8 mesi, Francesco Leone a 6 anni e 4 mesi e Salvatore Polimeni a 4 anni e 8 mesi. L'inchiesta della direzione distrettuale antimafia che nel dicembre scorso aveva portato all'arresto di 14 persone ruotava attorno alla cosca Paviglianiti e a diversi appalti nel settore dei rifiuti in cambio di posti di lavoro.